Cosimo Severo della Bottega degli Apocrifi presentiamo questa rassegna mille di queste notti sul lago, una rassegna teatrale ma non solo, di che cosa si tratta? Si tratta di un momento molto particolare, quest'anno che è il secondo anno di Shakespeare e Contadini questa collaborazione tra gli apocrifi e Whatsapp, tra il teatro e il mondo contadino è solo che ci spostiamo sul lago di Varano, ci spostiamo non sul lago in modo di dire cioè siamo davvero ad un passo dal lago, quindi tutti gli spettacoli non avranno come sfondo il lago ma avranno il lago che fa proprio da, non da cornice ma è lì, quindi gli spettacoli saranno praticamente sul lago con il pubblico in questo anfiteatro di paglia realizzato con Whatsapp e insieme agli spettacoli musicali e teatrali dal 30 al 2 di agosto, 30 luglio 2 di agosto.